Il cittadino ha bisogno di risposte Il cittadino ha bisogno di risposte Il cittadino ha bisogno di risposte Perché le cose non vanno più bene Perché il bilancio va al mare Perché non va bene più niente Perché i problemi sono tanti Il cittadino ha bisogno di risposte 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 Il cittadino ha bisogno di risposte